Dopo più di una settimana dall'ultimo caso di coronavirus nel Cilento, ieri si è registrato il contagio di una infermiera del reparto di medicina generale del San Luca di Vallo della Lucania, originaria di Napoli e residente a Casalvelino. Contagio che ha fatto discutere perché la donna era già stata dichiarata guarita dal virus lo scorso mese dopo aver accudito a Napoli. Il padre purtroppo deceduto per Covid-19. Al momento le prime verifiche di ulteriori contagi lasciano in parte, ben sperare, due i tamponi effettuati nel reparto di medicina generale su un medico e una fisioterapista che erano risultati positivi nel test sierologico. Per il resto del personale solo test sierologici, a quanto pare risultati negativi e svolti per prassi, nonostante non ci siano stati contatti stretti con la donna risultata positiva che ora si trova in isolamento presso la sua abitazione a Casalvelino. Nel Cilento, con il caso di ieri, i contagi da Covid-19 sono 7, ad Agropoli 4 a Casalvelino, 1 a Perdifumo e Laurino. Ieri invece registrati solo due tamponi positivi su 791 eseguiti su residenti nella provincia ed analizzati al Ruggi di Salerno e all'ospedale di Eboli.